Partiti! Veneria Reale, Giolitti, Imagolai, Ferroero e Valdisole. Prosegue in vantaggio Chilgosciai davanti a Maranagard, Giolitti, Veneria Reale, Imagolai, Ferroero e Valdisole. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Chilgosciai davanti a Maranagard, Giolitti, Veneria Reale, Imagolai, Ferroero e Valdisole. Poco prima dell'ingresso addirittura è sempre in vantaggio Chilgosciai davanti a Maranagard, Giolitti e Imagolai. I cavalli entrano in dirittura con Chilgosciai in vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Giolitti. A centro pista Imagolai seguono Maranagard, Veneria Reale. Passa Giolitti davanti a Imagolai, Chilgosciai, Maranagard e Roero. In vantaggio Giolitti davanti a Imagolai, Chilgosciai e Maranagard. Conduce Giolitti davanti a Imagolai e Chilgosciai. Grazie. 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 Grazie a tutti